15. Rito civile e cerimonia 15.30 nella tenuta del 1880, immersa nel verde, dove già da un paio di giorni, svetta la tanto attesa ruota panoramica, ricordo dei giorni al Coachella e simbolo delle feste più belle. 15. A celebrare è stato il sindaco Corrado Bonfanti. Gli sposi hanno pronunciato i loro voti. Sono stati personalizzati e scritti di loro pugno per giurarsi amore eterno. 15. Menù stellato del bergamasco da Vittorio. La sposa era in Dior mentre lo sposo inversa c'è, così come il figlio Leone, 5 mesi. 15. A noto sono arrivati tutti gli ospiti, a parte Mica, uno dei vi più attesi, il quale ha fatto il suo lavoro. 16. L'evento è stato trasmesso tutto in diretta sui profili social dei diretti interessati ma anche degli ospiti, come è nello stile degli sposi. 16. Già ribattezzato con grande enfasi Il Royal Wedding italiano sta facendo registrare record di visualizzazioni ai profili della coppia, come ha mostrato Fedez, le sue stories di ieri hanno avuto tutte oltre 2,5 milioni di visualizzazioni. 16. E chissà quelle di Chiara. Niente a che vedere con il milione, e 300 mila spettatori che 13 anni fa seguirono per la prima volta in diretta su SKYTG24 Un altro celebre matrimonio nostrano, quello della coppia Totti Blasi, anche loro nella lista degli invitati, che avevano venduto a caro prezzo l'esclusiva delle loro nozze. 16. Punto segno dei tempi che cambiano. Ad ampliare ancora di più la platea, tutte le foto e i video pubblicati dagli invitati, molti dei quali anche si influencer, liberi di condividere ogni momento sui social. 16. Si è rivelato invece un mezzo flop il crowdfunding per la lista nozze lanciato sul sito GoFundMe. La raccolta fondi per aiutare i followers più bisognosi della coppia non ha raggiunto, al momento, l'obiettivo dei 50 mila euro, fermandosi a soli 22 mila euro. 16. Punto in una noto invasa dai fan, Fedez e Chiara hanno fatto il loro arrivo mano nella mano, e si sono concessi ai flash della folla davanti al bozzetto floreale con l'immancabile logo di Esiste Ferragnez, omaggio dell'amministrazione comunale. 17. Poi ieri c'è stata la commozione vera. Un tripudio di amore celebrato anche dai parenti e dagli amici che hanno fatto commuovere i futuri sposi con i loro discorsi. 18. A iniziare era stata la mamma della sposa, Marina Di Guardo, visibilmente emozionata. 19. Poi papà Marco, e gli aneddoti sull'infanzia? I genitori di Federico non potevano che fare loro l'augurio più bello. Felicità. 19. E, ora, finalmente sono sposi per davvero. Auguri, Federico e Chiara. 19. E, ora, finalmente sono sposi per davvero. 19. E, ora, finalmente sono sposi per davvero.